Allora, questo è un barattolo di vetro abbastanza spesso, che adesso proveremo a rompere con una pistola aria compressa a CO2, forse la migliore che c'è, sarebbe la copia della beretta 92, è questa qui, proprio uguale, identica sia in peso e sia come è fatta all'arma da fuoco. Vediamo se una distanza di 15 metri riuscirà a romperla, l'ha distrutta, guardate, guardate che gli ha fatto. E poi 15 metri non sono pochi, questa pistola diciamo che essendo quella libera vendita è abbastanza potente, guardate che gli ha fatto. Ok, adesso andremo a trovare qualche altra cosa da rompere. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Vediamo il nostro tiratore. Dovamo dire ancora? Eccolo qui. Aspetta, prova a sparare un altro colpo a vedere se prendi quel poco che era rimasto. Ecco qui, non c'è rimasto più niente. Grazie.